Ciao agricoltori 4.0, benvenuti su Agri Chiacchere, la prima serie di contenuti che vuole andare a scoprire quello che è il presente ma soprattutto quello che sarà il futuro del mondo dell'agricoltura direttamente attraverso gli occhi e soprattutto le parole degli esperti del settore. Io sono Giovanni Franco di Elisian ed oggi abbiamo qui con noi Marco Reggia, quello che secondo me, ma non solo secondo me, è uno dei più grandi esperti di olio extravergine d'oliva al mondo, nonché giornalista e chiritico enogastronomico. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per l'intervista. Ovviamente la mia presentazione sicuramente non ti darà merito, quindi se vuoi presentati brevemente. Io appunto, come già detto, sono un giornalista mai da oltre 25 anni e diciamo ho cominciato col settore food, dopo anni di ristorazione, ho fatto agrare enologia come studi, quindi vengo da scuola tecnica, poi mi sono trovato appunto nella ristorazione romana ad alto livello e poi diciamo negli anni della ristorazione ho approfondito tematiche di degustazione sul vino, invece la chiusura della parentesi da ristoratore a metà degli anni 90, un po' per gioco, un po' per scherzo, ho fatto un corso di assaggio per l'olio e da lì invece proprio folgorato un po' sulla via di Damasco ho cominciato ad approfondire le tematiche con altri assaggiatori, da lì già ero entrato nel 95 in attività con una redazione importante romana, quella del Gambero Rosso, dove io collaboravo e ho cominciato anche appunto a seguire corsi di assaggio e abbiamo pensato poi all'inizio degli anni 2000 di fare una guida, inizialmente appunto con l'editore Cucine e Vini, poi nel 2010 persino sono diventato editore con il marchio Flossole, quindi sono 23 anni che realizzo una guida mondiale, nata inizialmente come guida italiana e poi adesso da oltre 15 anni è una guida internazionale, ma è un monitoraggio internazionale sulle migliori produzioni oleare di tutto il mondo. Visto che vieni dal mondo del vino, che sicuramente agli occhi di tanti è un mondo più ricco, più interessante, come mai tra tutti i settori hai scelto proprio di andare a concentrarti su quello dell'olio? In realtà appunto, ho detto bene, io ho lavorato per oltre 23 anni per tre redazioni importanti legate appunto al mondo del vino, a metà, diciamo, ai primi anni del 2000 ho cominciato con l'olio, diciamo che mi interessava, nonostante che il settore fosse decisamente economicamente molto più compresso e molto più povero, a differenza del mondo del vino, mi interessava appunto andare a cercare appunto di saturare una mancanza editoriale che era quella appunto nelle tematiche legate al settore oleario e quindi l'idea di fare una guida per dare soprattutto identità ai produttori e identità al prodotto, l'olio extravergine oliva, proprio con la nascente normativa poi degli anni 90 del COI che permetteva ovviamente attraverso il panel test appunto di dare pregi e difetti ovviamente al settore dell'olio, su quella spinta appunto nacque la guida e quindi fulgorato perché tra l'altro la tecnica di assaggio del mondo dell'olio è molto più tecnica e molto più avanti di quella del vino che ha avuto negli anni una serie di percorsi che ci permette non solo di valutare la qualità soggettivamente ma oggettivamente attraverso un panel e poi di poter definire pregi e difetti persino la certificazione e denominazione, quindi è una normativa che è un passo avanti per un assaggiatore quindi anche per questo ho avuto interesse ad approfondire le tematiche dell'olio extravergine. Sono davvero curioso di chiederti quanto è cambiato il mondo dell'olio in questi più di 20 anni o quasi 30 come dicevi te, però prima voglio chiederti se hai un aneddoto, una cosa simpatica da raccontarmi sui tuoi primi approcci col mondo dell'olio extravergine. Ma guarda, il settore sicuramente ha fatto un'evoluzione pazzesca, io ricordo i primissimi anni quando andavamo in giro a dire che assaggiavamo l'olio ci pigliavano per matti perché ovviamente la gente non pensava che anche una materia grassa potesse essere oggetto di degustazione e di analisi organolettica per appunto fare una selezione qualitativa. Quindi diciamo sono tantissimi, c'era gente che mi pigliava anche un po' in giro ma anche all'interno delle relazioni in cui lavoravo dicendo ma dove vai con l'olio perché io appunto già all'epoca era mia intenzione spostarmi dal mondo del vino a quello dell'olio come dire ma è un settore povero, un settore che ovviamente non crescerà persino mi presentai a una redazione il mio progetto editoriale che poi non venne accettato perché non si riteneva che appunto il comparto avesse questa capacità di promuovere e crescere nel settore del food e quindi diciamo all'inizio veramente è stata molto molto dura perché eravamo pochi e l'Italia era sicuramente in prima pista a livello mondiale poi diciamo che con le normative del Consiglio di Ricolo Internazionale la cosa è molto cresciuta diciamo che 20-25 anni fa anche la qualità era molto diversa io ricordo già all'epoca del ristorante quindi agli anni 90, a metà degli anni 95 io avevo anche un carrello degli oli ma è una carta degli oli quindi diciamo questa passione è lontana io avevo 23 anni quindi 1988 per la precisione però diciamo in quegli anni gli imbottigliatori erano veramente pochi erano grandi casati e molto legati al vino quindi quelli siciliani, quelli toscani qua e là c'era qualche piccolo produttore che cominciava a fare selezione di produzione ma in realtà l'offerta era veramente poca molto difforme sul territorio poi ovviamente con la crescita appunto della cultura e dell'assaggio piano piano moltissimi produttori hanno dato identità ovviamente alla produzione e questo ci ha permesso di crescere per darvi un dato pratico quando abbiamo cominciato a lavorare negli anni 2000 all'inizio dell'anno 2000 trovavo due oli buoni su 10 molti erano problematici dal punto di vista organolettico in relazione a difetti di rancio, riscaldo, morchie insomma problematiche di produzione, di stoccaggio, di filtrazioni insomma oggi la cosa si è molto ribaltata diciamo che 7-8 aziende su 10 hanno un alto profilo qualitativo forse mai come in passato in questo momento abbiamo una qualità organolettica permesso che secondo me c'è ancora margine però diciamo le tecnologie soprattutto le aree e qualche tecnica agronomica ha permesso un grande innalzamento della materia prima e della qualità di trasformazione e oggi si cura pure il packaging oggi sul mercato globale insomma l'Italia in particolare è sempre considerata pur secondo produttore mondiale come volume ma prima per qualità sì sicuramente anche da quello che sentivo nel mondo dell'olio extravergine anche da altri esperti quello che si dice in questi mesi negli ultimi anni comunque è che grazie anche all'aiuto della tecnologia forse siamo arrivati a produrre quello che è il miglior olio di sempre dal punto di vista organolettico e qualitativo infatti ti volevo chiedere come hai visto cambiare l'uso della tecnologia negli ultimi 20 anni e soprattutto quanto secondo te questo potrà ancora cambiare in futuro? ma diciamo che tu sai perfettamente è che la produzione la possiamo dividere in tre grandi blocchi il percorso della filiera la parte agronomica la parte tecnologica di trasformazione e la parte legata al marketing alla comunicazione e alla vendita in realtà il secondo e il terzo compatto quindi le tecnologie di trasformazione e la comunicazione ha avuto forti accelerazioni da una parte l'ultima cioè le tecnologie di comunicazione e marketing in relazione alla capacità globale che ormai abbiamo sui mercati poi l'Italia è molto forte alle nuove tecnologie che poi peraltro sotto il periodo Covid ci sono stati forti incrementi tecnologici e molta accelerazione per fortuna anche per le realtà piccole e deboli come il comparto oleare in Italia sulla seconda fase cioè la parte di tecnologia oleare ovviamente noi abbiamo una storia molto lontana però devo dire che negli ultimi 20 anni le grandi aziende italiane per lo più di trasformazione hanno fatto veramente molto come crescita tecnologica cioè noi 30 anni fa le tecnologie erano fondamentalmente clonate dagli scrematori della panna da altre tecnologie quelle oleare erano fondamentalmente estremamente come dire le grezze era un'estrazione volumetrica cioè dal prodotto mentre oggi soprattutto una quindicina o una ventina anni fa si è cominciato a ragionare come un po' un abito sartoriale cioè in base alla varietà in base a tutta una serie di parametri per tirare fuori ovviamente una qualità organolettica e un'intensità fenolica che potesse anche allungare ovviamente le tempistiche di conservazione del tempo quindi poi ultimamente poi negli ultimi 5 anni veramente c'è stato un grande impulso di alcuni settori della filiera quindi soprattutto le frangiture alcune cose hanno permesso veramente di ottenere gli oli veramente con dei profili di concentrazione fenolica ma soprattutto di valori organolettici estremamente a taglio anche il rapporto alla grande biodiversità che c'è nel mondo ma in particolare in Italia noi abbiamo oggi sono titolate circa 2600 varietà nel mondo di queste sono codificate circa 700 in Italia ma ne abbiamo altre 4-500 in via di certificazione quindi potremmo teoricamente avere quasi il 50% della biodiversità mondiale quindi abbiamo anche secondo me una responsabilità di tutela di questa biodiversità importante mentre quello che manca all'appello è invece diciamo un po' di tecnologia in campo o meglio si sono adottate in alcuni settori come in particolare le raccolte alcune tecnologie cercando di ottimizzare i costi alcuni tipi di allevamento quindi vivaistico e forme di allevamento sono state adattate sono state provate quindi dal monocono dal vaso tradizionale per dirne una non tutto però secondo me sta andando bene diciamo e secondo me la carenza in tecnologia soprattutto nella fase agronomica cioè oggi noi lavoriamo ancora come 70-80 anni fa con una fatalità ambientale uso questo termine un po' strano nel senso che speriamo che la stagione sia proficua che sia l'andamento stagione giusto che arrivi l'acqua giusta che non arrivi la muscolaria che si possa quando è il periodo di raccolta avere la giusta la giusta quantità con alternanze produttive legate alle stagionalità e insomma c'è secondo me veramente tantissimo il margine è enorme ancora dal punto di vista tecnologico in senso agronomico sì sicuramente visto che stiamo parlando di tecnologia e anche un po' di futuro è doveroso dire che un altro argomento che è stato trascurato fino adesso secondo me è quello relativo alla sostenibilità come sai a noi a Della Isian questo è un argomento a cui teniamo parecchio e infatti mi ricordo anche che un aneddoto che ci raccontasti quando c'è un giorno quando sei passato dall'ufficio a trovarci ovvero che quando in un convegno in Spagna 10-12 anni fa andasti a dire che secondo te a lungo termine il sistema di impianto superintensivo non poteva essere sostenibile non dal lato economico ovviamente ma per lo più dal lato agronomico dal lato naturale per mancanza di alcune risorse fondamentali come l'acqua ti fischiarono e ti fischiarono presentemente sì infatti la storia dico la verità è anche parte della mia scelta ambientale noi persino come editore io poi stampo una guida mondiale ovviamente abbiamo fatto una scelta di campo da tantissimi anni da oltre 20 anni usando carta FSC quindi carta sostenibile ambientalmente con certificazione internazionale ottenuta da foreste che vengono poi rimpiantate dopo l'espianto per l'usocarta quindi diciamo che il mio lato ambientalista è da giovanissimo e quel caso fu abbastanza eclatante lo ricordo perché fui anche un po' sbeffeggiato ma nel senso che non sapevano dove andavano a parare ogni secondo me in quel convegno veni invitato a Priego dal consorzio della denominazione Priego de Cordo che è una delle più importanti anche dei consorsi secondo me di qualità più importanti a presentare una visione da giornalista internazionale in quell'occasione fui abbastanza duro ma parlo di 14 anni fa con la precisione quindi veramente con una visione abbastanza lunga in quell'epoca di quello che sarebbe purtroppo successo e che oggi viviamo e dissi appunto che secondo me il percorso su vari fronti della Spagna visto che questa era la domanda era un po' travagliato innanzitutto perché la Spagna era in una fase di continua piantumazione e questo secondo me destava molti problemi ma non tanto da italiano perché indubbiamente già la Spagna ci aveva superato o ci stava superando nei volumi di impianto il problema è che questa corsa all'impianto non era stata per niente razionalizzata con il rischio che la quantità di impianto che poi andava prima o poi in produzione quindi dopo dieci anni e quindi nell'ultimo coinquegno per capirci potesse essere un grosso problema per la Spagna stessa che di controparte non riusciva a avere strategie di qualificazione nel suo Made in Spain ma di Spagna a differenza di Made in Italia che aveva un forte appeal ci sono stati acquisti spagnoli anche di marchi industriali ma questo non è bastato andare dietro a un continuo aumento di consumo ma l'esagerato quantitativo di impianto coltivato in Spagna ai grandissimi volumi che abbiamo visto negli ultimi anni dove la Spagna è arrivata a essere 5-6 volte superiore all'Italia come volumi produttivi e poi il lato ambientale lì fu durissimo perché cercare di far capire quello che già erano le prime evidenze scientifiche cioè nel senso che nonostante l'avvento delle tecnologie olearie che ovviamente andavano a risparmio di 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 prima come l'acqua quindi le due fasi per capirci dove Spagna era molto ben attecchita in realtà il consumo va di un superintensivo tra parte economica e parte tecnologica arrivava a fluttuare dai 25-35 litri per fare un litro d'olio cioè litri di acqua per fare un litro d'olio è evidente che una situazione di questo tipo non poteva avere sostenibilità e non può avere ancora oggi sostenibilità contro l'impianto tradizionale che vede fluttuare dai 6-9 litri di acqua per un litro d'olio in un impianto diciamo tradizione dove l'Italia nella stragrande maggioranza ha fatto questa scelta chiaramente anche un po' imposta in relazione alla lentezza italiana nella riconversione aziendale ma anche a un'orografia che ovviamente impedisce se non in pochissime zone italiane un incremento in più fu anche molto duro sempre in discorso alla biodiversità perché ovviamente sappiamo perfettamente che il superintensivo almeno all'epoca era fondamentalmente concentrato non solo in grossi monopoli bivaistici e la cosa mi creava qualche problema ma soprattutto in pochissime varietà sappiamo che Arbechina Arpausana e Coronechi quindi aziende a varietà spagnole e greche dove l'Italia ovviamente avendo questo grande patrimonio era totalmente tagliata fuori non nascondo in questi anni si sono fatti studi interessanti per esempio Leccio del Corno e il Maurino per esempio in superintensivo che hanno dato buoni risultati e qua e là qualche impianto si vede il problema però è fortemente legato alla sostenibilità ambientale e appunto aggiunsi anche a un problema serio degli strati del terreno delle falde che secondo me sarebbero arrivate a una forte saturazione di metalli pesanti e di sostanze legate all'aspetto fitosanitario e di concimazione che secondo me nella stratificazione degli anni potrebbe veramente restare grandi problemi di fertilità dei terreni e questo è un altro grosso problema anche l'agricoltura inquina e anche l'agricoltura dovrebbe cominciare a dare una regolata dal punto di vista delle utilizzazioni delle alimentazioni non solo per un fatto appunto di costi ma anche soprattutto per l'impatto ambientale sì sicuramente l'ottimizzazione non solo dei fertilizzanti ma anche di quelle che sono le risorse naturali è fondamentale comunque chiudendo perché mi sono dimenticato la nota finale fu questa pletora di circa 200 persone che mi fischiarono e con anche una battuta da parte della direttrice del consorzio dell'epoca dicendo ma bene noi sentiamo sempre un grande folclore queste novità da parte di Marco Reggia e io dissi molto chiaramente che ne avremmo parlato una proiezione nell'ultimo decennio una cosa divertente che nel mio ultimo Cayenne che è una fiera importantissima cioè Spoliva che è a Cayenne quindi 8 anni fa Antecovi cioè l'ultima fiera proprio in presenza fui avvicinato da una produttrice che già dopo 4-5 anni ancora liecheggiavano con le mie parole e cominciò a spiantare il superintensivo di radare in alcuni casi cambiare le varietà quindi ritornando a varietà autottone ma soprattutto prendendo certificazioni biologiche e andando a chiudere tutti quei settori di impatto in maniera da poter essere molto più sostenibili quindi lei mi chiese scusa anzi mi disse io sono stata una di quelle persone che ti ha fischiato e oggi non so non so come tu abbia fatto tanti 14 anni fa ad avere questa visione sono passati 8 anni noi già vediamo in Spagna grossi problemi negli impianti superintensivi nella sostituità economica tanto che in questi giorni vediamo anche il blocco persino del pompaggio delle falde da parte della Spagna molti spiantano perché ovviamente sono andati in esubero produttivo e quindi riconvertono molte volte o in impianti diciamo intensivi e non superintensivi o a volte persino in impianti di altro genere come i mandorleti perché ovviamente la situazione il covid ovviamente il covid ha anche ulteriormente aggravato la situazione economica già in una Spagna che non riusciva a remunerare se non con prezzi molto bassi perché poi sulla competizione commerciale l'Italia mantiene riesce a spuntare anche su grandi volumi prezzi decisamente superiori a volte anche del doppio del 100% superiore a Spagna la Spagna tra l'altro ha trovato dei competitor terreni basso come la Tunisia che ovviamente si sono messi a fare competizione di basso quindi è stata come dire anche un po' gli si è tagliata le gambe anche sul fronte dei basso della bassa remunerazione oggi la Spagna nonostante che c'è un incremento anche lì di qualità sta in grandi problemi molte cooperative di primo e secondo livello hanno grossi problemi a tirar giù somme di sostenibilità proprio economica sì quindi no la cosa divertente è che sei stato quasi un veggente ad aver previsto questo forse no ecco perché ti chiedo se ovviamente immagino che tutto derivasse da dati che avevi ricevuto esatto bravo io in realtà mi basai e feci ovviamente una proiezione diciamo anche un po' fortunata perché non è che si è veggente però vedendo avendo io la fortuna di avere una visione internazionale quindi all'est all'ost del mondo presi come monitoraggio i primi problemi di cambiamento climatico che si sono in realtà visti nel mondo latinoamericano in particolare la grande esplosione che ci fu negli anni 90 in Cile e portò i primi impianti in ambito produttivo intorno agli anni 2000 e quindi diciamo lì cominciarono a vedersi grandi impianti ma parliamo di impianti di 1000 1500 2000 ettari quindi proprietà molto vaste che ovviamente sono partite con tutti gli impianti superintensivi ovviamente con irrigazione dell'alimentazione e poi si sono resi conti e a oggi questi sono tutti non più in irriguo perché ovviamente non c'è più sostenibilità economica in rapporto a quello che riescono a spuntare sul mercato quindi feci questa semplice proiezione vedendo già i primi dati che venivano da quel tipo di realtà che pur facendo qualità col superintensivo però cominciarono a trovare problemi innanzitutto di identità sul mercato ma cominciarono a avere problemi a tirare come dire sull'impatto ambientale e problematiche legate all'alimentazione soprattutto idrica e quindi da lì poi feci questa proiezione che insomma non è che ci volesse poi veramente più di tanto diciamo che questa visione economica che ancora oggi viviamo di un capitalismo un po' sfrenato è a volte un po' cieca nelle valutazioni nel medio-lungo periodo e che quindi cioè fosse abbastanza a mio avviso è abbastanza evidente queste difficoltà di impatto e sostenibilità quindi lo dissi in quel convegno venne fischiato oggi non so spero che ci sia una presa di coscienza perché ovviamente trovarsi anche con impianti con bacini di stoccaggio ma non hanno la possibilità di pompare nuove da falda perché ovviamente si dà priorità ovviamente alle abitative insomma al consumo umano e questo comincia a diventare un serio problema se oggi siamo messi così immaginiamo nel prossimo decennio quali saranno le prospettive per questa tipologia di industria olearia intensiva sì allora adesso mi è doveroso chiederti un'altra previsione per quelli che saranno i prossimi dieci anni secondo te ma guarda diciamo come ti dicevo mentre secondo me nelle ultime due livelli di step della produzione cioè la parte di tecnologia olearia di marketing siamo siamo avanti forse abbiamo raggiunto non dico il picco perché insomma sicuramente tecnologie nuove già se ne vedono in campo tecnologico quindi di vario livello alcune interessanti alcune vedremo gli sviluppi poi se riusciremo a dare un ulteriore step qualitativo ai fattori organolettici diciamo il campo che secondo me invece vale la pena per un produttore per un'azienda concentratica è sicuramente il campo agronomico dove dicevo che secondo me siamo ancora molto indietro diciamo che negli ultimi cinque anni un po' anche grazie alla spinta delle problematiche appunto pandemiche ci ha permesso di come dire prendere a mani piene insomma questo percorso di miglioramento secondo me c'è da una parte l'uso tecnologico più massiccio ma non solo appunto regato alle raccolte o alle potature che sono sicuramente costi importanti ai fili dei bilanci economici di un'azienda ma sicuramente i device le sentinelle diciamo in campo che permettono attraverso sensori di fare dei menù raggi attraverso alert ogni mezz'ora ogni ora insomma permettono sicuramente di avere una visione molto più completa da considerare che tendenzialmente un produttore nei periodi dell'anno va una volta a settimana a volte anche essendoci molta dispersione soprattutto in Italia degli impianti non sempre si riesce ad avere un monitoraggio neanche giornaliero evidente che avere una sentinella H24 ti permette di avere una valutazione dei fattori appunto di alimentazione di vegetative di capacità vegetativa dell'impianto insomma dello stadio io come dire penso che questi abbiano un grande futuro ma non sarà l'unico percorso che ho già visto ormai in maniera non più non più ricerca ma diciamo in fase operativa è il mondo dei droni quindi quelli da terra quelli da aria quelli persino in campo frutticoltura si vedono già i primi droni per la raccolta diciamo che c'è un grande potenziale dove l'uomo rimane in gestione ovviamente tecnica per questi droni però ovviamente si hanno delle lavorazioni sul terreno nel terfinare come anche appunto per esempio dei droni aerei per il fitosanitario che attraverso triangolazioni satellitari si può arrivare persino a fare un trattamento sulla singola chioma cioè a parte una singola branca della chioma di un albero che significa ovviamente consumare meno antiparassitari e ovviamente avere quindi un impatto qualitativo della produzione ma anche ambientale non indifferente secondo me c'è anche molto a fare sul mondo idrico perché secondo me nuove tecnologie clonate da altre tecniche produttive per esempio io le ventilazioni che per esempio nel mondo della Cina nel tè si utilizzano sapete il tè sono grossi siepi dove le cime vengono sono la parte più nobile ovviamente quindi basta veramente un'escursione notturna anche lieve dove le cime si tendono a bruciare e lì hanno adottato formulazioni di creazioni di ventilatori che si attivano ovviamente con sensori termici che permettono di un ricambio degli stradi d'aria per esempio questo in Italia dove ogni vent'anni arriva una gelata non mi sembra cosa da poco ovviamente servono ventilazioni ovviamente a dimensioni ovviamente degli alberi oggi esistono un nuovo fronte di eolico che quindi ha una triplice funzione innanzitutto quella di produrre energia sono ad altezza praticamente quasi degli alberi o a leggermente superiore quindi non quelle pale enormi che sono diciamo molto d'impatto purtroppo e ovviamente sono diciamo hanno una forma ad ali di farfalla quindi diciamo concentriche però con mezza ala di farfalla girano e hanno questa innanzitutto funzione produttiva di energia io penso che bisognerà arrivare anche in agricoltura a capire che c'è bisogno di un patrimonio di produzione e conservazione dell'energia per le lavorazioni poi agricole ma soprattutto si andrebbero a ulteriormente avere altri step interessanti secondari come appunto la movimentazione straditaria che permetterebbe da una parte appunto di alzare far alzare il freddo nel caso di inverni rigidi che noi rischiamo per gelate sappiamo che l'olivo è suscettibile ma anche nei momenti caldi perché ovviamente sappiamo perfettamente soprattutto nell'epoca di produzione della mignolatura e dell'impollinazione che ci sono grossi problemi che è capitato quest'anno passato dove abbiamo avuto quei 30-40 giorni di forte caldo e il polline ovviamente è stato totalmente bruciato cioè casca direttamente per terra e non va in impollinazione e peraltro queste ventilazioni avrebbero l'effetto terziario quella di fare uno sparpagliamento forzato quindi che permetterebbe una migliore diffusione del polline sappiamo che nel mondo le aree abbiamo gli impollinatori all'interno di una certa quantità di piante in generale ogni 4-6 piante c'è un impollinatore e questo potrebbe aiutare non poco lo spargimento di polline e avere un'azione quindi di maggiore stabilità sulla produzione che sappiamo è un'altra debulezza del settore olivicolo con un'alternanza cioè la pianta va in stress e quindi poi sappiamo che a volte si riflette sugli anni seguenti quindi io penso che queste saranno sicuramente sul lato altra cosa che si può fare secondo me una migliore ottimizzazione della materia prima dell'acqua cioè non accontentarsi soltanto dell'acqua di falda con bacini come spesso ormai si vede fondamentale ma migliorare la qualità dei ruscellamenti sappiamo che appunto al netto delle orografie molto diversificate che secondo me bisognerebbe trovare modo di incanalare un po' meglio le acque meteoriche che escono fuori dall'invaso che potrebbero essere appunto ruscellate in maniera più concentrata e in più aggiungo che già ci sono ormai tecnologie piuttosto avanzate che permetterebbero persino attraverso grazie alle energie ovviamente immagazzinate attraverso pannelli solari o eolico utilizzare magari di una specie di deumidificatori che avrebbero la possibilità di produrre acqua in ambito notturno sappiamo che gli sbalzi termici in tutti i territori persino in quelli desertici sono piuttosto violenti e di conseguenza la notte i fattori di umidità potrebbero essere tirati verso una produzione e quindi una concentrazione appunto che va verso l'invaso cioè l'obiettivo secondo me nei prossimi anni è quello di sprecare molta meno acqua di utilizzarla sempre con il concetto di irrigazione di soccorso nei mesi dove la pianta neghere fa bisogno ma senza andare a intaccare eccessivamente le falde che potrebbero destabilizzare invece altri elementi delle filiere anche quello semplicemente abitativo che in questo momento ahimè in alcuni momenti è monitorato ci sono degli impianti delle condizioni ambientali per esempio in Spagna in Andalusia fa 35-40 gradi a maggio e capite bene che insomma bisogna avere un pochino più di raziocinio nell'utilizzazione di queste materie prima secondo me c'è molta tecnologia da tirare fuori e da andare a fare una forte razionalizzazione proprio perché si possa abbassare fortemente questo impatto che nel ventennio passato è stato veramente drammatico come utilizzazione incauta delle materie prime assolutamente infatti ti volevo chiedere anche perché negli ultimi anni forse ma anche meno ho notato sempre di più degli agricoltori iniziare finalmente forse a discutere di eventuali impianti di irrigazione appunto dentro gli oliveti cosa che fino a qualche anno fa era considerata del tutto surreale perché comunque si pensava che gli oliveti potessero auto alimentarsi dal punto di vista idrico mentre adesso si discute sempre di più su quanto sia fondamentale avere appunto un impianto di irrigazione per avere una produzione di qualità guarda questo è da una parte sì è un percorso che ovviamente è ineluttabile perché indubbiamente ci sono zone che sono fortemente penalizzate già geograficamente nel senso vedi la Puglia che è il nostro più grande vicino di produzione al netto delle problematiche che sappiamo legate anche la Xylella ma diciamo storicamente è una regione che ha problemi di acqua soprattutto nella sua seconda terza parte verso sud diciamo però indubbiamente questo percorso viene mi fa un po' sorridere vedere però oggi molti PSR utilizzati esclusivamente per la creazione di impianti di irrigazione senza andare però a pensare che magari tra dieci anni non ci sarà l'acqua o perlomeno ci sarà una forte razionalizzazione quindi mi chiedo se questo oggi è il momento o è l'unica fase di razionalizzazione degli impianti indubbiamente avere a disposizione un'irrigazione di soccorso soprattutto nell'annate di picco come è successo l'anno scorso che è stata un'annata drammatica infatti chi non ha avuto irrigazione non ha prodotto un'oliva aggiungo anche che comunque al netto delle problematiche legate ai fattori alimentari cambierà anche un po' la morfologia io quest'anno sono rimasto colpito del nord Italia che su tre anni ha prodotto solo un anno cioè due anni fa e le problematiche di fine stagione cioè fine quasi ad arrivare alla raccolta per capirci con questi cambiamenti climatici repentini con queste soprattutto grandinate e tormente d'aria quasi tornato un po' quasi tropicali stanno creando probabilmente anche un cambiamento d'approccio all'olivicultura io ho visto per esempio cominciare a mettere reti antigrandi nell'olivo che non era pensabile una volta le si vedeva nella frutticultura soprattutto quella che deve essere bella esteticamente ho cominciato a vederle anche in viticultura che era più scontato perché i danni ovviamente soprattutto quando le dimensioni delle grandi sono veramente molto grandi ho visto anche diciamo sassi di due o tre dita insomma di diametro che ovviamente fanno dei danni incredibili e poi si ripercuotono non solo sulla non produzione dell'anno ma anche per diversi anni quindi penso che bisognerà veramente mettere in campo vari elementi che trasformeranno anche l'approccio alle produzioni ovviamente in territori limite come al nord Italia dove purtroppo ovviamente le condizioni ambientali sono un pochino più violente di quelle del centro sud però però indubbiamente bisognerà prendere veramente a quattro mani il concetto di sostenibilità ambientale di difesa da questi repentini cambiamenti e penso che la tecnologia sia l'unica arma a disposizione che è forte ed è già presente basta e tra l'altro anche con investimenti secondo me non così drammatici cioè costa molto meno appunto l'inserimento di device o tecnologie di agronomi che più che gli impianti di irrigazione che peraltro a volte sono stabili sono sotterrati richiedono ovviamente un'utilizzazione insomma richiedono investimenti e ben venga che ci sono i sostegni anche sui PSR figuriamoci però mi chiedo se cioè sicuramente non può essere solo quella la risposta guardando non nel breve ma nel medio lungo dove secondo me le problematiche di carenza idrica saranno in ordine sì esatto noi siamo assolutamente convinti che il clima sarà una delle più importante sfide del mondo dell'agricoltura e l'unica soluzione non può non essere la tecnologia prima di chiudere ti volevo chiedere visto che parlavamo ovviamente di olio extravergine di qualità e mi hai dicevi poco fa che hai appena lanciato il concorso 2023 di Flosolei e ti volevo chiedere un po' come funzionava e quando scade questo concorso guarda in realtà è appena partito noi annualmente dal primo febbraio si attiva il concorso per l'emisfero nord che dura un range fino a maggio quindi c'è molto tempo per mandare i campioni poi da giugno ad agosto parte il percorso per l'emisfero sud del mondo che ovviamente ha campagne oleare completa partono da marzo le campagne oleare dall'argentina dal cile fino a giugno quindi in realtà diciamo che sono campagne esattamente opposte alla nostra che va da ottobre a dicembre quindi il concorso da febbraio si possono tranquillamente scaricare sul nostro sito Flossole o Marco Leggia i questionari che sono in otto lingue quindi per tutti e quindi inviare campionature documentazione e quant'altro analisi e Deplian note informatiche sull'azienda poi ovviamente noi dai primi di marzo attiveremo i panel d'assaggio infatti di tutti gli esperti assaggiatori italiani e internazionali certificati e scritti agli albi che ovviamente avranno il compito di testare ovviamente le qualità dei produttori e si concretizza poi in un punteggio aziendale selezioniamo le prime 500 aziende che si sono classificate e selezionate che poi vanno a finire appunto nella guida Flossole in questo caso la prossima è la 2023 e nelle versioni ovviamente app sia per iOS che per Android insomma quindi come dire abbiamo coperto anche i supporti leggeri insomma e siamo in questa fase dove appunto già sono cominciate ad arrivare copiose le campionature e appunto cominceremo i panel da poco per poi dare questo strumento che insomma ormai da 23 anni è a disposizione degli operatori dagli appassionati semplici consumatori fino ai tech insomma molto forti traduciamo in due lingue oltre l'italiano ovviamente quindi in inglese in cinese tradizionale non nascondo che stiamo ragionando vi spoilerò a metà una terza traduzione per la prossima edizione però per la Flossole 2023 perché riteniamo che sia arrivato il momento anche di dare voce ad altre lingue che è il nostro progetto quella di una di una qualità senza confine senza frontiere che permette appunto di equiparare le produzioni all'interno delle diversità delle biodiversità mondiali però di proporre una qualità organolettica e qualitativa sul mercato considerato che il mondo dell'olio rappresenta il 5% del comparto dei grassi quindi siamo quelli più piccolini però diciamo con una crescita costante vedendo i dati del Consiglio di Ricolo Internazionale al netto delle problematiche di pandemia che hanno un po' destabilizzato questi consumi ma comunque un continuo costante sia in ambito produttivo e sia in ambito di consumo e questo spero che questo strumento insieme ad altre che non siamo l'unica guida presente sul territorio nazionale e mondiale ma che siano di supporto per un consumatore un po' più attento al comparto dei grassi a mettere quei giusti mattoni perché ricordo che l'olio extraveggio non è solo un banale grasso per non far traccare i cibi sulla padella ma è un condimento importante che dà gusto e dà sensazioni organolettiche ma anche è un elemento nutraceutico importantissimo che sappiamo che ormai da decine e decine di studi scientifici ha una valenza nutraceutica enorme cioè nel senso ormai non c'è ambito del mondo della medicina che va dalla pediatria alla geriatria dal cardiovascolare all'oncologico dal gastro quindi all'apparato digerente alla cosmesi al mondo dei denti al mondo dei capelli insomma ci sono tantissimi fronti dove ormai l'olio extraveggio è riconosciuto come elemento che non è più persino da alcuni ricercatori non è più un elemento come dire una mera al giorno nel senso un consumo di coerenza migliore al futuro è un elemento che può destare veramente valori importanti per recuperare quei mattoni che sono fondamentali al nostro ricambio cellulare e soprattutto al rallentamento dei radicali libe la produzione dei radicali libe quindi il degradimento diciamo cellulare io infatti a volte ci gioco quando vado in degustazione e finisco una degustazione e mi rivolgo alla fine della platea dicendo abbiamo guadagnato mezz'ora di vita in più avendo fatto questa degustazione quindi consumare un olio extravergine di alta qualità non è soltanto consumare una buona alimentazione e preservare diciamo quei mattoni ma è qualcosa di più esatto io sono ancora fermamente convinto che l'olio extravergine sia uno dei superfood ancora più sottovalutati al mondo prima di chiudere ho la domanda più difficile di tutte per te ovvero vorrei chiederti se riesci a darmi tre aggettivi per descrivere il mondo dell'olio extravergine allora il primo è estremamente complesso perché in realtà pochi sanno che questo settore ha un fortissimo dualismo ahimè negativo che da una parte produce una materia prima fantastica dell'olio extravergine dall'altra è il settore più affrontato al mondo è il settore del food quindi c'è da fare anche una lotta serrata la contraffazione della qualità troppo prodotto viene messo su scaffali di scarsa qualità con i minimi standard per la addizione extravergine quindi c'è veramente molto da fare ancora anche in ambito di produzione ma anche di comunicazione e consumo quindi complesso veramente complesso dall'altra lo dico da fautore che ha messo la sua vita a disposizione da 30 anni nel settore appassionante nel senso che è un settore che ti prende tantissimo è una materia prima che veramente mi ha colpito nella mia storia professionale e ancora oggi traspare spero dal mio modo di parlare dalla passione perché è una sorta di droga nel senso culturale oltre di consumo e questo veramente prende moltissimo sia i produttori e poi non so aiutami tu perché il terzo non me lo ricordo manco più non mi viene in mente più di tanto diciamo che spero che appunto abbia una valenza su impatto ambientale che sia sostenibile ecco forse chiuderei così perché indubbiamente se vogliamo avere come dire esistenza nel futuro dobbiamo capire che anche l'agricoltura come ho detto prima inquina e che anche l'agricoltura ha bisogno di fare grossi passi in ambito tecnologico e di sostenibilità e che sia qualitativo e nutrizionale e appassionante a livello gustativo ma che sia sostenibile e penso che questo sia un percorso che sia obbligatorio cioè oggi i produttori devono capire anche il consumatore deve essere più esigente nel chiedere e ricercare produzioni che siano comparate al prezzo non si può pensare di spendere 3 euro al litro perché non esiste olio extravergine a 3-4 euro come purtroppo si vede molto spesso in distribuzione e i costi poi adesso sono anche aumentati in questi giorni c'è stato un 15-20% di aumento nel settore in relazione a tutto quello che sono i costi folli legati a questo momento drammatico che abbiamo tra la pandemia e le potenziali guerre ci aggiungo in questi giorni ma comunque insomma c'è bisogno di un consumatore anche che abbia rispetto delle proprie scelte di materia prima nell'acquisto e che quindi si informi di più si accolturi di più e faccia delle scelte che siano coerenti comprare un olio a 4 euro non è detto che si è speso bene anzi si è speso molto male molto spesso questi oli che sono olio extravergine oliva perché sono schitti così in etichetta hanno una qualità nutrizionale bassissima ma a volte anche 8-10 volte più bassa di un olio di fattoria che a volte costa semplicemente il doppio o il triplo quindi ovviamente quindi si risparmia comprando olio a 10-12-14 euro al litro invece che un olio da grande distribuzione da 4-5 euro o giù di lì che ovviamente impoverisce totalmente e quindi si rischia poi di dover compensare a livello medico e a livello di nutrizione con altri prodotti perché non si è messo con i giusti mattoni nel proprio corpo quindi attenzione consumatore siate intelligenti e culturati nel settore c'è bisogno di un consumatore evoluto nell'acquisto e che scelga prodotti sostenibili grazie mille Marco per queste parole che secondo me sono preziose e alla base del mondo dell'olivicoltura quindi ricordo a tutti che è aperto il concorso Flow Sole del 2023 quindi produttori se volete candidarvi se volete mandare la vostra campionatura è sicuramente un'occasione imperdibile perché si stratta di uno dei massimi elementi di spicco in questo settore ringrazio Marco per l'intervista e per la chiacchierata ovviamente se qualcuno volesse informarsi abbiamo anche un libro attualmente che è la Flow Sole 2022 che ovviamente sarà presente in tutto l'anno perché noi la presentiamo sempre da dicembre a dicembre e quindi basta andare sul sito Flos Sole o Marco Reggia e poter diciamo avere un atlante olivicolo approfondito di 55 paesi nel mondo con 500 aziende top che ovviamente segnaliamo per un bravo e buon consumatore esatto grazie mille grazie anche agli agricoltori 4.0 che ci hanno ascoltato e ai consumatori e buona giornata buona giornata grazie a tutti